L'ho sempre creduto fino in fondo, non importava se era in mezzo alla strada, su un campo famoso. Un giocatore forte quando aiuta il proprio compagno a sbagliare di meno e quando mette tutto quello che ha sul terreno di gioco. A me piacciono i giocatori affamati, quelli che non mollano mai, perché di quello che abbiamo bisogno. Solo chi cade e impare a rialzarsi, però non caderebbe. Moralmente scelgo tutti, però non mi ha proprio pensato lui. Non importa chi sei, da dove vieni, non importa chi conosci, conta quello che tu hai dentro. L'orgoglio che metti per raggiungere certi risultati. Non devi aspettare troppo tempo per poter dimostrare chi sei veramente. Non importa chi è, di quello che stai fedendo. Libre spessore più shockerci per ottenimento. Corso i studenti scientifici teorici. E per corso il proprio範 Oggi non viassa wantodi redenно al piede. La qui sa che la pezzca è quello che conosciuto. Non viassa festa mai la seduta a fare mai latino. Grazie a tutti